La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Questi sono i tre slogan che campeggiano stampati sulla facciata del palazzo di forma piramidale in cemento bianco, in cui si trova la sede del Ministero della Verità oruegliano, e al suo interno, nell'archivio, che lavora il protagonista di 1984 Winston Smith. Il Miniver, in neolingua, si occupa dell'informazione e della propaganda, e ha il compito di produrre tutto ciò che riguarda l'informazione, promozione e diffusione dei precetti del partito, editoria, programmi radio-televisivi, letteratura. Questo ente si occupa anche della rettifica del materiale in un'opera capillare costante di riscrizione delle fonti. Il Miniver, cioè, si occupa di falsificare l'informazione e la propaganda per rendere il materiale diffuso conforme alle direttive e all'ideologia del soching. Il Grande Fratello, infatti, sottomette le menti dei cittadini tramite il controllo della realtà, il bipensiero, e niente deve sfuggire alle maglie del suo dominio onnipervasivo. Nella società distopica, immaginata da Orwell, il controllo è totale, in quanto i colleghi di Winston si occupano di falsificare la storia seguendo l'adagio del partito, che controlla il passato controlla il futuro, che controlla il presente controlla il passato. Le menzogne propinate dai falsificatori vengono imposte dal partito e acquisite in modo spontaneo e a critico dalle masse, perché, cito leggendo Orwell, se tutti i documenti raccontavano la stessa favola, ecco che la menzogna diventava un fatto storico, quindi vera. Questo passaggio di 1984 riecheggia il noto adagio di Joseph Goebbels, ministro della propaganda del Terzo Reich. Se ripetete una bugia cento, mille, un milione di volte, diventa una realtà. E soprattutto viene acquisita e introiettata come se fosse sempre stata vera. Il controllo della realtà e la falsificazione costante del passato servono a soggiogare il popolo, tenendolo imprigionato in una forma di eterno presente. Privo di memoria storica e senza più la capacità di usare la coscienza critica, l'uomo comune è costretto a crollare di fronte alla dissonanza cognitiva che viene indotta dal grande fratello, senza nemmeno accorgersi delle bugie a cui viene bombardato quotidianamente. Dovrà quindi allinearsi completamente all'ortodossia, accettare e credere qualunque mezzogna come dogma, anche qualora si dica che 2 più 2 fa 5. Chi non lo facesse sarebbe immediatamente accusato di psicoreato. Il potere svuota le menti dei cittadini per riempirle con i propri contenuti, proprio come ripeteva ancora Goebbels, non basta sottomettere più o meno pacificamente le masse al nostro regime, vogliamo operare affinché dipendano da noi come una droga. Tematiche attualissime come mostro nel mio libro Fake News, edito da Arianna Editrice, in un periodo in cui la caccia alle fake news è diventata importantissima all'interno del dibattito pubblico, sempre all'interno di una cornice però fintamente democratica e dove le voci dissonanti sono ancora troppo poche. La diatriba sulle fake news ha infatti portato negli ultimi anni alla promozione di un clima di isteria che potremmo definire una caccia alle streghe 2.0. Siamo al culmine di una campagna che da un lato strumentalizza la violenza e il cyberbullismo dei social e dall'altro, in piena modalità schizzoide, un po' come il bipensiero ruoiliano, fa uso di questi metodi violenti e repressivi per attaccare, dileggiare, denigrare e screditare i ricercatori, i giornalisti alternativi. Tutto ciò che si discosta dal pensiero unico e dal politicamente corretto viene liquidato come fake news, incitamento all'odio, hate speech, materiale da unalfabeti funzionali, complottismo, finendo poi per legittimare la censura. Se non pensi, ciò che il potere vuole meriti di essere censurato, anzi vaporizzato, che era esattamente l'obiettivo iniziale di questo processo, la costituzione del Ministero della Verità. Se partiti con la graduale costituzione di siti atti allo smascheramento di bufale, per finire ad adottare metodi sempre più sofisticati per imbavagliare il web. Sia i media mainstream, sia i politici che chiedono e impongono misure per la censura del web, hanno negli anni però divulgato e continuano a farlo innumerevoli panzane, menzogne deliberate o fake news, ricorrendo quindi a sofisticate forme di manipolazione per dirigere il consenso dell'opinione pubblica, un chiaro atteggiamento schizzoide degno di una distopia orwelliana.